Ci colleghiamo con il Presidente della Fondazione Don Mazzolari, che vedo già collegato. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, grazie dell'inghito. Vogliamo parlare di Don Primo Mazzolari. Lo scorso 3 di aprile c'è stata una celebrazione eucaristica in occasione del 65esimo anniversario della morte di Don Primo Mazzolari e sabato prossimo ci sarà, quindi domani, un convegno di studi dedicato a Don Mazzolari, la politica, la democrazia cristiana, che si terrà in quel di Brescia. Intanto io direi, per iniziare questa nostra conversazione, di ricordare brevemente, per quanto possibile, chi è stato e chi è, mi verrebbe da dire, Don Primo Mazzolari. Sì, brevemente è difficile, perché è una figura di grande spessore e sotto diversi profili. È stato un prete della diocesi di Cremona che ha esercitato il suo ministero per tutta la vita nella bassa mantovana, perché è in realtà il paese in cui è stato di questo parroco per tanti anni, Bozzolo, si trova in provincia di Mantolo. E Don Primo Mazzolari è stato una figura, diciamo, della prima metà del Novecento nella chiesa italiana, in una parola potremmo dire profetica, nel senso non tanto dal punto di vista che ha anticipato cose, ma perché è tra quelle figure che ha saputo stare dentro la chiesa, la storia, la politica, la cultura del proprio tempo, leggendola in profondità e aiutando la chiesa a camminare dentro quella storia appunto in maniera profetica, sapendo portare la profezia dell'Evangelo. E questo anche spesso incorrendo, diciamo, in difficoltà, in punizioni, tanto dalla parte dell'autorità ecclesiale, quanto anche dall'autorità politica, soprattutto nel periodo fascista, Mazzolari fu un convinto antifascista. E poi è stato un, diciamo, un maestro di spiritualità, è stato un maestro di un modo nuovo di pensare alla chiesa, che ha costruito, diciamo, l'eclesiologia del Vaticano II ed è stato anche un punto di riferimento per molti credenti e non credenti in ambito civile, politico. È stata una voce, diciamo, una coscienza critica della politica italiana per diversi decenni. Ecco, una voce, una coscienza critica della politica italiana. E voi sabato, cioè quindi domani, al campus dell'Università Cattolica di Brescia, in via della Garzetta, sala 1, dico così, ho dato tutte le coordinate, a partire dalle ore 10, vi interrogerete, approfondirete questo aspetto del rapporto di Don Primo Mazzolari con la politica in particolare, con la democrazia cristiana e in particolare ancora alcuni esponenti della democrazia cristiana. Qual è stato questo tipo di rapporto? Sì, è stato un rapporto articolato. Don Primo partecipa fin dall'origine alle discussioni che portano poi alla nascita della democrazia cristiana nel periodo clandestino, appunto, Don Primo è stato un antifascista, nel periodo, diciamo, soprattutto durante la guerra ebbe frequentazioni con i cattolici antifascisti lombardi, bresciani, milanesi di altre città della Lombardia che in qualche modo parteciparono insieme col gruppo romano di De Gasperi alla nascita dell'idea e poi anche del partito vero e proprio della democrazia cristiana. Quindi Don Primo partecipa fin dalle fasi iniziali, poi sostiene con i suoi scritti, i suoi discorsi, tiene una miriade di discorsi pubblici durante la fase della Costituente e poi durante i periodi elettorali, quindi sostiene pienamente la democrazia cristiana dei primi decenni della vita del partito, ma al contempo anche è un interlocutore critico, è un pungolo, è sempre pronto a richiamare il partito e gli uomini di partito alla loro missione, al grande progetto che a suo parere doveva rappresentare la democrazia cristiana. E questo, ultimo aspetto, proprio anche grazie al forte legame personale che Don Primo coltivava con molti esponenti di quel partito, figure di grande rilievo del mondo lombardo, ma non solo del mondo lombardo, Don Primo aveva un carteggio fitto con tantissime personalità della Chiesa, del mondo ecclesiale, del mondo culturale e anche del mondo politico italiano. Possiamo dire che la figura di Don Mazzolari è attuale e potrebbe essere anche da stimolo nella riflessione di oggi per il mondo politico, in particolare per i cattolici impegnati nella politica, proprio per anche recuperare un po' il senso e il valore dell'impegno politico e dell'istanza di essere cattolici nel contempo. Sicuramente. Don Mazzolari, attraverso i suoi scritti, Don Primo fu uno scrittore estremamente prolifico, alcuni dei suoi testi, rivoluzione cristiana, impegno con Cristo, la più bella avventura e tanti altri diari di una primavera, rappresentano ancora oggi sicuramente un punto di riferimento per tutti i credenti, in realtà non solo per i credenti, diciamo ma stiamo parlando in modo particolare di questo, per tutti i credenti che desiderano spendere la propria fede, le proprie convinzioni, i propri principi incarnandoli dentro la storia, dentro le concrete dinamiche della società, della politica, dell'economia. Ed è un punto di riferimento perché Don Primo richiamava sempre il senso di fondo di quello di impegnarsi, di quello spendersi, pur riconoscendo che la dinamica della storia comporta sempre la necessità e anzi auspica il compromesso, l'incontro tra punti di vista diversi, la consapevolezza del limite anche del bene che si può costruire dentro la storia, però sempre tenendo lo sguardo rivolto al senso di quell'impegno, il valore di quell'impegno. E un pochino questo è anche il senso del modo con cui abbiamo costruito il nostro convegno. Da una parte c'è la ricostruzione storica della riflessione di Don Primo e dei suoi rapporti con la democrazia cristiana, con gli uomini politici della democrazia cristiana. Dall'altro c'è anche un rilancio sull'eredità di Don Primo per il nostro tempo, come essere capaci di tradurre un'eredità impegnativa, come quella della lezione di Don Primo-Mazzolari dentro le condizioni storiche, sociali, culturali, economiche del nostro tempo che ovviamente sono molto diverse da quelle in cui operava Don Primo, ma nel quale comunque ancora c'è bisogno di quella che, potremmo dire così, Papa Francesco chiamerebbe la politica con la P maiuscola. E ce n'è, direi, tanto bisogno. Anche le recenti narrazioni di cronaca che abbiamo fatto nel corso di questo programma ce lo confermano. Brevemente, l'attività della vostra fondazione ovviamente è valorizzare l'ascito di Don Mazzolari, si articola nella organizzazione di convegni come quello di domani e in cos'altro? In convegni, seminari, incontri con scuole, gruppi giovanili, nella, diciamo, ospitalità che diamo ai tanti gruppi di studenti, di parrocchie, di seminaristi che vengono in fondazione per conoscere meglio la figura di Don Primo. E poi, accanto a questo, diciamo, due compiti di divulgazione, c'è il compito della custodia dell'archivio di Don Primo Mazzolari che è molto consistente, c'è tutto il suo carteggio con le tante personalità della sua epoca, ma tutti i suoi manoscritti, quindi c'è la custodia dell'archivio. E c'è la pubblicazione delle sue opere in edizione critica perché nel corso del tempo le opere di Mazzolari spesso sono state repubblicate non sempre in maniera del tutto fedele all'originale del testo, quindi la pubblicazione delle sue opere e la pubblicazione di una rivista che si chiama Impegno che raccoglie contributi scientifici su Don Mazzolari, sul suo tempo e al tempo stesso continua anche a pubblicare alcuni inediti, alcuni stralci del diario, dei vari documenti che noi custodiamo in fondazione. Ecco, tutte queste informazioni ovviamente potete trovarle anche nel sito della fondazione che è fondazionemazzolari.it Io ringrazio Matteo Trofelli per essere stato con noi e averci aiutato pur sinteticamente per quanto possibile a ricordare la figura di Don Primo e soprattutto anche di invitarvi a questo punto a partecipare al convegno di domani a Brescia data l'attualità del tema proposto. Grazie per la visione!